Tra le immagini dell'archivio dell'Ateneo dedicato agli anni della Grande Guerra ce ne sono alcune particolarmente interessanti ed importanti perché ritraggono monumenti scomparsi di cui esistono pochissime testimonianze fotografiche. Giuseppe Nava era ruolato come mitragliere e si trovava sul fronte del Piave dopo la disfata di Caporetto. Ci ha lasciato un album con una trentina di fotografie scattate in quei giorni che ritraggono soprattutto le postazioni dell'artiglieria. In una delle prime pagine dell'album c'è questa immagine purtroppo un po' rovinata e sbiadita dal tempo. È l'uscita della messa dalla chiesa principale del paese di Salgareda in provincia di Treviso. I parrocchiani non sanno che a breve sia la chiesa che il loro paese verranno totalmente distrutti perché si troveranno al centro dei combattimenti del 1917-1918. La chiesa dedicata a San Michele Arcangelo era stata costruita a partire dalla fine del 1500. Una cronaca del XIX secolo la descrive come chiesa ornatissima e appariscente. Si ergeva come del resto tutto il paese di Salgareda sull'agine del Piave. Era preceduta da un prato recintato e da un viale di accesso delimitato da due piramidi alte quattro metri e la porta principale era affiancata da due colonne simmetriche con le statue della Pietà e del Redentore benedicente il Piave. All'interno della chiesa c'erano diversi altari barocchi, un organo settecentesco in stile rococò e moltissime altre opere d'arte tra cui un importante affresco attribuito a Gian Battista Tiepolo e una pala che raffigurava la morte di San Giuseppe di Palma e Giovane. Dopo lo sfondamento di Caporetto del 24 ottobre del 17, il fronte ripiegò verso la sponda destra del Piave. Il 9 novembre entrarono a Salgareda le prime truppe austro-ungariche e questa divenne la prima linea del nuovo fronte. Il paese fu letteralmente raso al suolo dalle artiglierie italiane fin dai primi giorni dei combattimenti. Dopo un anno, a guerra ultimata, del paese e della chiesa con le sue opere d'arte, non rimanevano che dei cumuli di macerie. La ricostruzione avverrà in un altro luogo, a un chilometro di distanza dal fiume. Michele Dolci, avvocato classe 1890, ha fotografato ogni aspetto della guerra che ha vissuto. Nel suo fondo ben 123 fotografie testimoniano l'azione e la vita delle truppe alpine e degli artiglieri da montagna in Carnia. Una delle sue fotografie ci porta con lui nella piazza principale di Venzone, in provincia di Udine, e ce ne fa rivivere l'atmosfera con i bambini, la donna alla fontana, l'uomo col cappello. Fa da sfondo il bello e imponente palazzo comunale in stile gotico veneziano, costruito tra il 1390 e il 1410. Venzone è l'unica cittadina fortificata rimasta nel Friuli. Si trova in un punto di passaggio obbligato tra la valle del Tagliamento e la prima fascia di montagne, di cui passava l'antica via Giulia Augusta, che univa la città di Aquileia con l'area danubiana austriaca. Il 29 ottobre del 1917 Venzone fu invasa dalle truppe austro-ungariche e liberata solo nel novembre del 1918. Questa foto fissa qualcosa che è stato profondamente modificato, non dalla guerra che aveva lasciato intatti tutti i monumenti del paese, ma dal terribile terremoto del 1976 che lo ha completamente raso al suolo. Ecco qui che vediamo la fontana distrutta completamente e il palazzo comunale gravemente lesionato. Il palazzo è stato completamente ricostruito dalle fondamenta mediante un complesso smontaggio e rimontaggio di pietra su pietra con grande perizia. La foto di Dolci ci regala però un raro sguardo sull'originale di questo edificio, quando era ancora intatto. Oggi Venzone è considerato un modello della ricostruzione del dopo terremoto e nel 2017 è stato eletto Borgo dei Borghi dalla trasmissione della RAI Chilimangiaro. Pierino Soregaroli durante la prima guerra mondiale era in sanità sul fronte nella zona di Monfalcone. La guerra gli costò la perdita di un occhio. Oltre ad alcune fotografie della guerra, Soregaroli ci ha lasciato le immagini scattate nel dopoguerra a documentare un viaggio intrapreso in auto insieme al figlio ancora bambino nei luoghi dove aveva prestato servizio militare. Tra queste una lo ritrae seduto sul muretto che delimita il cimitero della brigata Arezzo a Monfalcone. Il cimitero fu progettato da Antonio Sant'Elia, autore del manifesto dell'architettura futurista e uno dei più importanti esponenti di questo movimento. Il Sant'Elia nel 1916 si trovava sul fronte carsico dove ricevette l'incarico dal comandante della brigata Napoleone Focchetti di progettare il cimitero per la brigata Arezzo a Monfalcone, con tombe disposte in fila e allineate secondo la gerarchia militare. Il 10 ottobre del 1916, a soli 28 anni, dopo una ventina di giorni dall'aver ricevuto il compito di progettare il cimitero, viene ucciso durante un assalto a quota 77. Scrive il suo commilitone tenente Nino D'Abbusi e così l'amico caro, collega in armi e in arte, trovò onorevole sepoltura nel piccolo cimitero della brigata in Monfalcone, cimitero che egli stesso aveva ideato per ordine superiore e che io ho in parte già costruito e che mi auguro di condurre a termine, siccome pegno d'onore verso la memoria del caduto, perpetuando nella pietra la ultima sua geniale costruzione. Del lavoro di Sant'Elia sono rimaste pochissime tracce, un disegno che vediamo del monumento che doveva essere realizzato al centro del cimitero, qualche schizzo e solo rarissime fotografie di quanto effettivamente realizzato. Questa foto di Sorregarori è perciò molto interessante e preziosa perché è una delle pochissime che ci permettono di vedere con chiarezza l'opera di Sant'Elia. Nella foto ad esempio si può riconoscere molto bene il motivo caratterizzante ed unificante della croce scavata in negativo sulla sommità dei pilastrini e si vede anche il portale di ingresso sebbene sia quasi tutto coperto dalla vegetazione. Oggi è tutto perduto, non c'è più traccia del cimitero progettato da Sant'Elia perché già nel 1934 venne soppresso e le salme traslate a Redipuglia. Nel 1921 comunque le spoglie di Sant'Elia erano state portate a Como, sua città natale. Al posto del cimitero c'è un parcheggio di un edificio scolastico. Questi casi sono un esempio di come i documenti unici delle memorie private possano divenire memoria collettiva ed essere determinanti nel costruire la storia. L'Ateneo di Bergamo ringrazia le famiglie dei soldati bergamaschi che generosamente ne hanno voluto condividere i ricordi.